Ditelo a noi, ci troviamo in Viale degli Aceri di Cava dei Tirreni, alle spalle dell'Operatore inizia via Gino Palumbo e termina via Vittorio Veneto. Alle mie spalle invece è l'Exombi, vedete, è Corso Mazzini, Palazzo Sergio. Parliamo della spazzatura. Davanti a questo palazzo, purtroppo, 365 giorni l'anno, vi è questo che voi vedete. E' semplicemente una vergogna, non viene rispettato assolutamente il calendario tenente Vincenzo della Rocca. Oltre alla campagna di Vieto ci sono questi due bidoni, uno è aperto, c'è un fetore, guardate, che è uno schifo, fa veramente vergogna passare di qua. E qui ci sono bambini, attenzione, sono famiglie, ma chi ce la butta? I marziani, ma vengono la sera questi marziani, come fanno poi a scendere da Marte? Qui lasciano tutto questo, guardate, c'è di tutto e di più. Come si deve risolvere questo problema? Tenente della Rocca, con l'assessore Fortunato Palumbo, ma schiaffiamoci una gran bella telecamera, porca miseria, e spezziamogli le gambe a sta gente, una volta per sempre. Ditelo a noi. Grazie. Grazie.